22 persone che si sono rese protagoniste di un'azione concreta di particolare generosità nei confronti delle organizzazioni di volontariato, da donazioni alla messa a disposizione di competenze, tempo ed energie. Il premio si chiama Generosità ed è giunto all'ottava edizione. Sono stati conferiti nella sala consigliare di Palazzo Ducale a Martina Franca l'organizzazione del CAV, il coordinamento delle associazioni di volontariato. In questi tempi, che non sono tempi tranquillissimi, la generosità è esplosa, è esplosa un po' come il Covid, ma in termini positivi. Quindi molta gente, molte persone si sono avvicinate al nostro coordinamento e hanno chiesto cosa possiamo fare per chi è in difficoltà. Questa comunità di Martina Franca, molto operosa, molto attenta alle fragilità, è organizzata anche in maniera simbiotica con l'amministrazione comunale. Il volontariato in generale non ha bisogno di premi perché l'attività di volontariato è spontanea, nasce dalla coscienza delle persone, però il volontario ha bisogno di tanto in tanto di riconoscimenti di questo genere. Grazie. 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 Grazie.